Pensa che la Confcommercio purtroppo ha cercato in tutti i modi, ha lavorato per fare in modo che il governo mettesse in piedi la riapertura, ma con questa grande confusione che ci sta ci ha messo veramente in crisi. Abbiamo fatto una riunione martedì a Roma parlando proprio di questo Green Pass che è diventato un problema, non una soluzione. Noi abbiamo detto che nel decreto successivo che si doveva inserire, dobbiamo incominciare a parlare non soltanto del Super Green Pass che comunque crea confusione, dobbiamo dare una mano alle imprese, abbiamo chiesto una moratoria fiscale, una moratoria bancaria perché la ripresa delle nostre attività stanno allo stremo, se non iniziamo a fare delle politiche vere e concrete sulla ripresa economica è un vero problema, il caro bolletto è tutto quello che ci sta dietro. Andare in un supermercato e poi recarsi nel settore abbigliamento non è così difficile entrarci. In un negozio purtroppo dobbiamo mettere fuori la guardia giurata che controlla il Super Green Pass. Credetemi, è una difficoltà che i nostri clienti, faccio un esempio, nel momento in cui ogni cittadino guarda una vetrina, cerca di entrare, ha la prima domanda se c'è il Green Pass, in quel momento il cittadino ha un fatto psicologico, per reazione esce e non compra più. A queste cose nessuno ci pensa e cerca di ragionarci. Noi stiamo cercando di far capire al Governo, di far capire anche ai nostri associati, organizziamoci nel migliore dei modi ma francamente diventa difficile. Sentivo l'altro giorno il settore feder-perziosi e stanno veramente in crisi. Già all'interno di un negozio se entrano due persone è grasso che cola. E poi per non parlare di tutta l'attività dell'abbigliamento, del calzaturificio, eccetera, al di là del Green Pass stiamo attraversando un momento veramente triste.